L'episodio più eclatante risale ad una settimana fa quando tre autobus della ditta Bruno sono stati incendiati in un deposito privo di videosorveglianza alla periferia del paese, ma le azioni messe a segno dalla criminalità sono aumentate in maniera esponenziale nell'ultimo periodo a Spinazzola. Sono incrementati i furti d'auto, una decina di vetture sono state asportate da un'officina in una sola notte, così come sono stati fatti sparire i trattori di alcuni agricoltori della zona. Un bollettino di guerra che comprende anche i furti in appartamento, alcuni consumati in presenza dei proprietari al loro interno e ieri pomeriggio, mentre il sindaco annunciava la richiesta alla prefettura di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, una donna finiva vittima di uno scippo in via Cavour. Una recrudescenza criminale con cui Spinazzola si era già dovuta confrontare in passato e che all'epoca venne contenuta proprio grazie ad un rafforzamento dei controlli disposto dalla prefettura. Siamo in una fase in cui la sicurezza Spinazzola è messa in forte discussione da questi atti che minano la serenità dei nostri cittadini e a cui occorre porre urgentemente rimedio, fanno sapere dall'amministrazione comunale che ora spera in un nuovo intervento della prefettura per limitare la nuova emergenza criminalità.